Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. La nuova settimana è iniziata con il sole ma con estese gelate su tutto il nostro territorio regionale, poi nelle ultime ore la nulosità è tornata ad aumentare. Proprio tra la sera e la notte saranno possibili le ultime precipitazioni su bassa Romagna, soprattutto al confine con le Marche, dove qualche nevicata fino a bassa quota non sarà da escludere ma saranno rovesci molto veloci e sparsi. La situazione nella giornata di domani, martedì, vedrà cieli per lo più poco nuvolosi, qualche banco di nebbia sulle basse pianure e addensamenti al primo mattino soprattutto su bassa Romagna, tra Riminese e il confine marchigiano. Nel pomeriggio avremo cieli per lo più poco nuvolosi con qualche addensamento passeggero a causa appunto di nuvolosità alta, ventilazioni in aumento sulla costa dove il mare risulterà poco mosso, temperature minime comprese tra meno 4 e più 3 gradi, valori massimi in ulteriore calo e compresi tra 3 e 7 gradi, almeno fino a giovedì. L'alta pressione poi dominerà la scena nella nostra regione con estese gelate al mattino e temperature massime piuttosto basse. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.